Se ti dico parmigiano di maranzana, che ci vuole a fare la bolla? Questo ci vuole, l'amore. Se non troppo sottili, metteteci un po' di sale, olio, gambi di prezzemolo, cipollotto, una gratta da taglio, a un certo punto il pomodoro dice, busta nella dente, così, qui, la vedi, tutta sudata, ha tu filtrato la farina. È una maffiglia. Puoi usare olio di arendi, olio di girasole o olio che si leggera lì. Quando sono belli colorati, lei vale. Ecco qua. Usa un fiore di latte buonissimo, un po' di sale, un po' di pepe, la salsa da parmigiano è pronta. Pomodoro, le lanzane, pomodoro, è uscita per tutto. Basilico, parmigiano, le lanzane, pomodoro. Pozzarella, più ce ne metti e più è buona. Silico, odorosa deve essere. Pozzarellosa, parmigianosa, tiè. Forno, 180 gradi almeno per 20 minuti. A noi ci piace quella crosticina. Calda, tiepida, fredda e sempre buona. E te fa questo, di essere quella cosa che non finisce mai. Eterno, come The Sound of Floor. Sempre, regà, forever. Ciao, ciao.